Dov'è il tuo ufficio? Che cosa fai tu di preciso? Sei al corrente delle cose, è questo che fai. Tu riesci a ottenere informazioni e le converti in una materia orribile. Che significato ha spendere per te? Un dollaro? Un milione? Diffida dei modelli standard. Esci da quegli schemi. Tu hai bisogno di sentirti eccitato. È la tua natura. Questa è una protesta contro il futuro. Vogliono tenere a distanza il futuro. È uno scandalo, mio caro. Morire è uno scandalo, ma lo facciamo tutti. Lui è in giro ed è armato. Mi fa sentire libero come non mi sono mai sentito. Libero di fare cosa? La logica evoluzione degli affari è l'omicidio. Ricca e inaccessibile. E mani odori di sesso. La violenza richiede una causa. È interessante stare vicino a un uomo che vogliono uccidere. La tua vita ti appare come una contraddizione. Il futuro è impaziente. Accadrà presto qualcosa. Forse oggi. E' sulle sue tracce. Voglio di più. Fammi provare una cosa nuova. Distruggere il passato. Creare il futuro. Tutto nelle nostre vite ci ha portato a questo momento. Il futuro. ��라고요. Nonono. Nonono. IEM.